Anche quest'anno, a conclusione della settimana della cultura e del benessere femminile, l'Associazione Culturale Promozione Donna ha voluto dare il giusto riconoscimento all'impegno di chi ogni giorno lotta in prima linea, premiando le donne che si sono distinte in diversi campi, sociale, culturale, imprenditoriale e politico. La cerimonia è stata organizzata nell'Aula Consiliare del Comune di Sernia. Non per festeggiare, ma per fare un momento di riflessione. Ci tengo a precisarlo, perché non bisogna festeggiare niente, bisogna riflettere e andare avanti. Anzi, questi sono momenti in cui deve emergere qualcosa di propositivo per migliorare la nostra condizione di donne. Abbiamo fatto una settimana di cultura e del benessere femminile con eventi molto importanti. Uno di prevenzione oncologica, poi abbiamo fatto la premiazione di un concorso letterario nazionale che ha visto la partecipazione veramente di centinaia di ragazzi. E oggi è la giornata conclusiva per la premiazione della Donna dell'Anno. Vengono premiate quattro donne, le eccellenze molisane, nel campo del sociale, della politica, della cultura e dell'imprenditura. Premiamo come imprenditoria, tutti al pari merito chiaramente, come imprenditoria Rossella Ferro della pastificio La Molisana, una donna che tutti conosciamo perché ha dato un grande impulso a questo pastificio portando il suo prodotto in tutto il mondo. Come cultura abbiamo premiato Gioconda Marinelli, che è una scrittrice giornalista di origine molisana. Come sociale Titina Petrosino è una bella persona veramente che gestisce una società di volontariato oltre la vita ed è una persona di grande spessore. E come politica abbiamo pensato a Maria Gentile, sindaco di Serna negli anni Ottanta. Grazie. 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 Grazie.